Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è raro sentire economisti diversi essere tutti d'accordo a un convegno, temo che questa sarà un'eccezione, abbiamo già avuto due visioni che sono state date da parte del professor Serides e da parte della Banca d'Italia ed è difficile non essere d'accordo con l'analisi complessiva che viene fatta almeno a livello macroeconomico, nel brevissimo periodo abbiamo certamente un rischio di rallentamento nell'ambito internazionale, quindi un rischio di rallentamento presente anche se gli ultimi dati per gli Stati Uniti che vengono da uno o due mesi a questa parte sono in un certo senso meno negativi di quanto ci si aspettasse, quindi si temeva anche peggio, mentre invece tutto sommato i dati sul prodotto e sull'occupazione mostrano una qualche solidità di crescita, rimangono però indubbiamente dei rischi alla crescita per il 2012 e poi nella situazione europea i rischi sono più tangibili in presenza di raggiustamenti fiscali che sono rilevanti. È già stato notato precedentemente come l'incertezza istituzionale che ha avuto luogo in Europa a partire da inizio 2010, quindi in seguito all'inizio della discussione sul salvataggio della Grecia, non ha aiutato e per capire quanta incertezza c'è stata e per capire però allo stesso tempo in positivo quanta strada è stata fatta, basta ricordare che a febbraio del 2010, che sembra ormai un altro mondo ma il tempo ormai scorre più velocemente da un po' a questa parte, basta ricordare che a febbraio del 2010 a fronte dei primi problemi che emergevano sulla Grecia, la proposta iniziale che fu fatta per venire incontro ai problemi della Grecia era quello di una serie di prestiti bilaterali fatta dai vari paesi alla Grecia, quindi addirittura nella reazione immediata si negò la possibilità di un intervento orchestrato a livello europeo per venire in soccorso del Paese, quindi oggi si parla sempre di più di coordinamento fiscale anche a livello europeo, di sorveglianza, quindi in un certo senso il fatto che in meno di due anni si sia passati da una situazione in cui addirittura si negava la possibilità concettuale di un intervento coordinato ad una situazione in cui si discute in maniera attiva il coordinamento della politica fiscale dimostra quanto la sofferenza che c'è stata in Europa in questi due anni sta lasciando il segno e come sta portando in maniera graduale ad un miglioramento delle istituzioni, quindi tanto per non cedere alla tentazione di pessimismo di breve periodo, visto che abbiamo già sentito molte cose negative oggi, io certamente vedrei il bicchiere mezzo pieno, almeno dal punto di vista della maturazione istituzionale che sta avendo luogo in Europa, al di là, come dicevo, degli errori di breve periodo che sono stati fatti fra l'altro sarebbe tutto da dimostrare che se la situazione fosse stata gestita meglio poi l'esito sarebbe stato molto diverso, in quanto ci sono comunque delle tendenze di fondo molto rilevanti delle motivazioni fondamentali e concrete che ci hanno portato dove siamo oggi e quindi non sopravvaluterei l'impatto di questa gestione che è stata incerta sicuramente ma non è importante credo guardare alla serie degli errori passati, è importante guardare al futuro e da questo punto di vista ritengo che ci siano dei margini possibili. Certamente episodi come quello del recente vertice di Cannes non sono particolarmente utili se noi ripensiamo a quello che è stato fatto in quel vertice a fine ottobre si è parlato di tre cose, si è parlato di un maggior coinvolgimento del settore privato nell'ambito della ristrutturazione del debito greco, si è parlato dell'aumento di capitale delle banche si è parlato di un rinforzo del Fondo Europeo di Stabilità, il cosiddetto Fondo Salva Stati da attuare mediante la leva finanziaria, se noi guardiamo a soltanto distanza di un mese e mezzo in sostanza niente è stato raggiunto in maniera definitiva. Per quanto riguarda le banche siamo ancora in attesa dei calcoli finali, degli aumenti di capitale anche se l'ordine di grandezza in un certo senso c'è, però mancano ancora dettagli. Per quanto riguarda l'accordo del coinvolgimento dei privati siamo ancora in alto mare, non abbiamo neanche ancora i dati sulla ristrutturazione dell'accordo che era stato previsto nel luglio scorso in cui si prevedeva un air cut del 21% per gli investitori, percentuale che poi è stata portata al 50% potenzialmente al vertice di Cannes, ma adesso secondo i quotidiani internazionali leggiamo che la Grecia starebbe contrattando un air cut del 75-80%, quindi in sostanza niente è stato raggiunto di concreto e addirittura sono stati rimessi in discussione i risultati raggiunti precedentemente. Per quanto riguarda il Fondo Europeo ci si continua a muovere un'incertezza sul desiderio di aumentarlo, parlando di leva finanziaria, di trasformarlo in un sistema assicurativo e così via, ma di nuovo niente è stato raggiunto. Si parlava inizialmente di una leva pari a 5, adesso negli obiettivi la leva è stata ridotta a 3. Credo che le ultime dichiarazioni mostrino quanto sia difficile comunque pensare di fare leva su uno strumento in cui tra i principali, per così dire, azionisti di questo fondo troviamo o paesi che sono già in difficoltà o paesi cui il rating di AAA è già messo in discussione, è il caso della Francia, e se avvenisse un declassamento della Francia nel giro dei prossimi giorni o delle prossime settimane, certamente credo che ci sarebbe ulteriore volatilità sui mercati. Quindi, ecco, quello è un episodio a mio parere non particolarmente utile, perché cercando di forzare i tempi e cercando di trovare scorciatoie finanziarie non ci porta alla vera soluzione del problema. Qual è la vera soluzione del problema? Beh, certamente molto difficile da dire e da due anni la stiamo cercando, quindi sicuramente non è facile fare commenti su questo punto, io credo però, e qua cerco di rispondere un po' all'invito che mi è stato fatto di citare in maniera particolare le banche, credo che si tratti di pensare ad un insieme di iniziative. E qua ho, devo dire, quattro considerazioni, qualcuna più di breve periodo, qualcuna più di medio periodo, le prime tre sono di breve periodo però, la quarta è una strada tendenziale a cui arrivare magari nel giro di qualche trimestre. La prima considerazione è che l'Italia adesso è indubbiamente al centro della scena, ci dichiariamo da anni europeisti, questo è il momento di far vedere che lo siamo davvero perché indubbiamente l'Italia è al centro di questa vicenda e se l'Italia riesce a dare dei segnali positivi e credibili ai mercati certamente sarà tutto il quadro europeo a beneficiare di questa situazione. Da questo punto di vista credo sia poco produttivo fare commenti su manovre di cui non sappiamo niente, possiamo però certamente fare qualche commento generale sulla modalità di queste manovre, certamente io credo che questa manovra debba essere importante o se non sia immediatamente importante ci vuole un annuncio credibile che qualcosa presto sarà fatto inizio 2012 ma temo che ormai siamo al punto in cui gli annunci sono difficilmente credibili, quindi certamente la manovra dovrà essere importante e non è soltanto una questione di saldo complessivo della manovra, è una questione anche di qualità della manovra, una manovra soprattutto basata su aumenti fiscali deve avere una dimensione importante, una manovra che invece considera anche la riduzione della spesa che è il faro di medio periodo da raggiungere, secondo me potrebbe essere anche più contenuta perché darebbe ai mercati il vero segnale di quella riduzione dell'importanza del settore pubblico nell'economia che dal professor Pissarides è stata chiaramente delineata nell'intervento precedente. Questo deve essere accompagnato a riforme strutturali ma di nuovo non possiamo farci l'illusione che le riforme strutturali funzionino in un trimestre, proprio perché sono riforme a lungo rinviate, possono essere messe in atto e possono plausibilmente funzionare nel giro di qualche trimestre o di qualche anno, quindi non possiamo aspettarci più di tanto dal punto di vista delle riforme strutturali e quindi credo che lo scenario più plausibile per il 2012 sia certamente una riduzione di domanda aggregata che viene dal settore pubblico come conseguenza di questa manovra fiscale e un qualche sostegno date alle manovre di riforme e di sviluppo che però nell'immediato non potrà controbilanciare come saldo l'impatto negativo della manovra. Basta ipotizzare che il moltiplicatore del reddito che forse tutti noi ricordiamo dall'analisi keynesiana del libro di testo di Economia 1 si appare a 0,5, una misura estremamente precauzionale e subito capiamo che un impatto di riduzione del disavanzo non può non avere un impatto rilevante sul prodotto, quindi con un impatto anche negativo sui rapporti disavanzo prodotto e debito prodotto. In questo contesto, e chiudo la parte sul primo dei quattro punti, in questo contesto certamente sarà fondamentale l'attenzione all'equità sociale, allo spiegare in maniera chiara che cosa si vuole fare con questa manovra, allo spiegare in maniera chiara quali sono gli obiettivi anche di medio e lungo periodo che vogliamo perseguire al di là di manovre di emergenza e soprattutto come le singole categorie sociali sono chiamate a partecipare a questa manovra, perché il senso di equità sociale non può essere solo percepito ma deve essere reale e qua veramente io credo che questa sia una scelta importante e che è proporzionale appunto alla dimensione complessiva che noi dovremmo mettere in atto. Secondo punto, le banche sono state citate precedentemente sia nella relazione della Banca d'Italia sia nell'invito che mi è stato fatto dal professor Bramvilla, certamente qua le considerazioni sono da un punto di vista molto complesse, dall'altro molto semplici, è piuttosto banale purtroppo, quindi forse qua vi deluderò, ma credo che la situazione sia piuttosto semplice, le banche sono in grado di estendere credito all'economia se hanno fonti di finanziamento e in particolare se hanno fonti di finanziamento a medio e lungo termine, cioè le banche difficilmente possono fare finanziamenti all'economia quali quelli necessari per far ripartire lo sviluppo, che quindi sono finanziamenti all'impresa e sono finanziamenti a medio e lungo termine di progetti di investimento e di imprese produttive, le banche non possono farlo se hanno finanziamenti di breve periodo o se hanno aiuti dalla Banca Centrale Europea che indubbiamente è fondamentale ed è stata fondamentale, in particolare dall'estate in poi, che sono però di breve periodo, perché in caso contrario le banche aumentano il rischio perché c'è un mismatch crescente fra durata delle attività e durata delle passività, quindi da questo punto di vista io credo con molta urgenza è necessario fare una riflessione che vada al di là del sostegno di liquidità di breve periodo, perché se i mercati dei finanziamenti a medio e lungo termine non si riaprono, bisogna dirlo chiaramente, le banche non saranno in grado di estendere il credito necessario allo sviluppo economico, quindi se anche noi fossimo così bravi a livello governativo, da coniugare misure di contenimento e misure di sviluppo che siano in grado di attutire l'impatto, che comunque ci sarà, perché come sapete tutte le previsioni convergono comunque su una riduzione del prodotto in Italia per il 2012, ma se anche si sarà così bravi da fare di meglio, dal punto di vista della domanda aggregata mancherebbe il collante necessario dal punto di vista del finanziamento per mettere in atto questa manovra e quindi questo potrà avvenire a ritroso soltanto se ci saranno fonti di finanziamento a medio e lungo termine e qua si chiede veramente, io credo che non sia soltanto il caso dell'Italia, perché altri paesi già colpiti e meno colpiti sono in situazione che diventa sempre più simile, quindi è veramente un problema comune ormai all'Europa e questo in un certo senso ci fa diventare tristi, ma ci rincuora, perché se il problema diventa comune è più facile che ci sia una risposta coordinata a livello europeo, credo che questa sia un'urgenza immediata e sia essenziale per poter superare questa fase. La terza situazione importante è ovviamente quella dei paesi, l'Italia è certamente fra questi paesi, la difficoltà di pensare a soluzioni convincenti sul fondo salva stati, che ricordate è stato concepito per interventi di piccola dimensione, è stato concepito per Grecia, Portogallo e Irlanda, certamente non per l'Italia, probabilmente neanche per la Spagna, la difficoltà di ampliare la leva data il deterioramento di credibilità del credito dei paesi sottostanti, ci fa capire che probabilmente una soluzione più convincente dal punto di vista finanziario deve venire da fuori dell'Europa, sono insistenti le voci che vediamo sui giornali di coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale e di nuovo qua notiamo quanta strada si è fatta, nel marzo 2010, credo sia importante comunque citare questi episodi per dimostrare il cambiamento di interpretazione, nel marzo 2010 in Europa ci si affannava a dire che non si voleva il Fondo Monetario Internazionale e che saremmo stati in grado di fare tutto in Europa, quindi questo non si è realizzato e quindi credo che un intervento finanziario del Fondo Monetario Internazionale, almeno a livello di garanzie, possa essere estremamente importante, in modo da arrivare anche un po' a una divisione dei compiti, magari con le autorità monetarie che cercano di assicurare un finanziamento a medio e lungo termine delle banche, per poterlo estendere all'economia, attenzione, quindi da questo punto di vista magari se c'è scetticismo o se ci sono ritrosie su quello che le banche possono fare, credo che vada benissimo l'idea di fare un monitoraggio anche specifico degli eventuali fondi che vengono dati a medio e lungo termine per assicurarsi che vengano trasmessi alle imprese, lasciando naturalmente alle banche il loro lavoro, quello poi di discriminare fra il credito e le situazioni di assistenza e ricordando che le banche sopravvivono poi nel medio e lungo periodo se fanno credito, in particolare buon credito, perché questo rimane il loro lavoro, però da questo punto di vista il fondo monetario può intervenire probabilmente più dal lato pubblico e degli Stati. La quarta considerazione, che è una considerazione di lungo periodo, credo che sia opportuno accelerare il più possibile il coordinamento fiscale, credo che l'obiettivo sia arrivare ad una specie di Stati Uniti d'Europa dal punto di vista fiscale, che come diceva la relazione iniziale è il necessario completamento all'unione monetaria. A questo punto ho in sostanza terminato il mio intervento, credo che le implicazioni per gli investitori siano piuttosto chiare in un certo senso, lo scenario è tanto difficile quanto le implicazioni chiare, se queste cose verranno fatte o se se ne troveranno di più brillanti, credo che il 2012 potrebbe essere un anno in cui magari le previsioni più nere non saranno avverate, magari dal punto di vista dei mercati ci potranno essere anche dei rimbalzi, ricordate che il livello anche dei mercati azionari in alcuni paesi è piuttosto contenuto relativamente agli utili, è vero che il ciclo degli utili potrebbe essere al massimo e quindi si teme che anche negli Stati Uniti il ciclo degli utili possa rallentare nel 2012, i multipli sono relativamente contenuti, bisogna anche dire però ancora lontani dalle cadute delle crisi, i punti minimi per gli Stati Uniti del rapporto fra prezzi utili sono circa 5-6, siamo arrivati a circa 9 nel 2008, adesso siamo a circa 10, quindi in un certo senso la possibilità di un rimbalzo legato ad una gestione dell'economia e a un risultato economico migliore del provvisto non deve farci dimenticare i rischi che sono estremamente importanti, perché se mettiamo assieme un rallentamento degli utili e il fatto che il multiplo prezzo utile in molti paesi del mondo è lontano da quelli minimi storici diciamo degli anni 30, indubbiamente dobbiamo ricordare che la possibilità di caduta rimane sempre. Detto questo ci auguriamo che dato che le cose da fare ormai sono relativamente chiare sia nel nostro paese sia nel contesto internazionale, ci sia la volontà e la possibilità di farle, credo che certamente se tutti aprendo il giornale al mattino facessimo il tifo per vedere una manovra più importante e guardassimo con fiducia il fatto che magari per 2-3 anni dovremmo pagare i debiti per facilitare la strada ai nostri figli e ai giovani che già oggi sono nel mercato del lavoro, che cercano di entrare nel mercato del lavoro, questo sarebbe credo una maturazione collettiva del paese che certamente aiuterebbe il governo a fare le cose che sarà necessario fare. Grazie per l'attenzione.